Stat, il comune più giovane ma anche il più popoloso dei quattro della provincia di Taranto, chiamati a rinnovo del Consiglio Comunale nella tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Un appuntamento con le urne particolare e delicato per la comunità dopo il terremoto scoppiato lo scorso 15 gennaio che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale in seguito all'arresto del sindaco e altre 28 persone per voto di scambio mafioso. Tre le liste in competizione, cambiamo Stat con il candidato sindaco Fabio Spada, uniti per Stat con Deborah Artuso, Stat 2.0 con Luciano De Gregorio. Le urne hanno dato ragione a Fabio Spada e alla sua squadra con 2.514 voti pari al 43,86% di preferenze, il 36,58% a uniti per Stat, il 19,56% a Stat 2.0. Questa è la vittoria di tutta Stat, sarò il sindaco di tutti quanti, da domani lavoreremo tutti insieme. Devo ringraziare la mia squadra, tutti quelli che mi hanno aiutato, tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte. Devo ringraziare mia figlia Flavia, partirà dall'ascolto dei cittadini, la politica, o meglio i cittadini si devono riappropriare della politica. Partiamo dall'ascolto, i cittadini hanno bisogno di essere ascoltati. Un messaggio che lancia le opposizioni? Dobbiamo collaborare, abbiamo vinto tutti, ha vinto Stat oggi e quindi collaboriamo per il bene di Stat e ripartiamo insieme.